La sveglia che suona ma non c'è fretta, lezioni a distanza, ore davanti al pc e videochiamate. L'emergenza sanitaria ha cambiato le nostre abitudini e soprattutto quelle dei ragazzi che da un giorno all'altro si sono ritrovati chiusi in casa, senza amici e senza compagni di banco. Solitudine, marginazione e paura sono solo alcune delle sensazioni provate dagli adolescenti raccolte dall'unità di strada, un gruppo di cinque professionisti, psicoterapeuti ed educatori che lavorano nei nove comuni dell'ambito sociale 6. L'obiettivo dell'Equipe è quello di prevenire il disagio giovanile, un problema noto da sempre ma che si è accentuato a causa della pandemia. Sono diverse iniziative che sono state realizzate e sono in cantiere anche per essere realizzate in tutti i comuni con la partecipazione, quindi ritrovando il sano protagonismo e nuove connessioni, relazioni positive tra adolescenti, giovani nella fascia più critica, nell'età più critica. Questo territorio è un territorio in cui si vive bene, è un territorio in cui ai giovani, agli adolescenti dobbiamo offrire anche opportunità di ritrovare relazioni positive. Andrea, Laura, Federica, Luigi e Tommaso sono gli esperti che si mettono a disposizione dei ragazzi dagli 11 ai 18 anni, andando ad incontrarli nelle scuole e nei luoghi di ritrovo. La mappatura è uno degli elementi fondamentali del nostro lavoro, consiste in un'osservazione continua di tutto il territorio e dell'ambito, partendo dai luoghi di aggregazione dei giovani, luoghi di aggregazione informale, quindi parchetti, piazzette e campi da calcio. È importantissima la prima fase di osservazione perché ci permette di capire come provare poi ad entrare in contatto con i ragazzi in una successiva fase, che è quella della realizzazione proprio delle attività. Voci dalla strada, flash on the road, sono alcuni dei progetti che abbiamo sviluppato sul territorio con i ragazzi. Il fatto di lavorare anche nelle scuole ci permette di essere riconoscibili, quindi spesso i nostri interventi a scuola ci permettono di entrare più facilmente e riconoscere nella fase di osservazione i ragazzi che abbiamo già incontrato, ci facilita nell'aggancio con loro. E diverse sono le attività organizzate dall'unità di strada, come il laboratorio di fumetto alla Rocca Malatestiana e quello dedicato ai videogame tuttora in corso al centro gioco Gas Gas e poi una ludoteca all'aperto, sempre alla Rocca, dove mediante il gioco di ruolo e quelli in scatola i giovani hanno la possibilità di socializzare alla presenza di un educatore. L'altra attività è flash on the road che invece si svolge su tutto il territorio dell'ambito e aggancia i ragazzi nei luoghi di aggregazione informale. Attraverso Facebook e Instagram noi continuamente pubblichiamo dei post, delle attività che proponiamo e quindi i ragazzi possono seguirci, tutte le famiglie possono seguirci per capire se ci sono iniziative di loro interesse. Abbiamo il contatto su WhatsApp attraverso quale ci si può relazionare direttamente con noi oppure l'indirizzo mail al quale scrivere.